Prima di iniziare vorrei fare una replica. Una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. Allora in questo messaggio c'era un emoticon, un gesto che è questo che vedete dove si dice stai zitta e caro Giancarlo questo gesto non me lo fai perché hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e una squadra in cui credo e tu caro Giancarlo con questo gesto sempre a voler zittire dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto delle donne e questo non te lo permetto.